No! Non bene! Sperma! Non bene! Che cosa fai? Hai dato il fuoco al cibo, alle palme, al rum! Sì, ho bruciato il rum. Perché hai bruciato il rum? Uno, perché è un'ignobile bevanda che muta anche il più rispettabile degli uomini in un perfetto furfante. Due. Quel segnale raggiunge almeno cento piedi e l'intera marina britannica è in giro a cercarmi. Tu non credi ci sia una remota possibilità di essere visti? Perché hai bruciato il rum? Attendete, Capitan Sparrow. Concedetegli un'ora, massimo due, aguzzate la vista e scorgerete delle vele bianche all'orizzonte. Deve essere stato terribile per te il troppo lato qui, Jack. Deve essere stato terribile per te. È sempre bello di ora! Dopo di questo chi la sopporta più?